Locazioni Web è il portale che ti permette di registrare i tuoi contratti o quelli dei tuoi clienti in pochi semplici clic. Sei un privato, un agente immobiliare, un professionista? Registrare un contratto di locazione non è mai stato così semplice, veloce e sicuro. Grazie a Locazioni Web potrai risparmiare tempo, evitare errori e sanzioni e potrai anche fare tutti gli adempimenti successivi direttamente dal tuo computer. Come funziona? È semplice. Iscriviti gratuitamente su Locazioni Web, carica il contratto firmato, i documenti di identità di tutte le parti che lo hanno sottoscritto e scegli l'agenzia delle entrate dove vuoi che venga registrato. Il nostro back office controllerà che non ci siano errori nel contratto e ti manderà il modello di registrazione RLI già compilato. A te non resta che farlo firmare e ricaricarlo nell'area personale. Una volta registrato il contratto telematicamente ti invieremo la ricevuta emessa dall'agenzia delle entrate. Stampane due copie e allegale al contratto. Fatto! E le imposte di registro e bollo? Niente paura, se il contratto non è in cedolare secca potrai pagarle direttamente online con bonifico, carta di credito, poste pay o paypal. Semplice no? Scopri di più su locazioniweb.com